Buongiorno cantanti, benvenuti al secondo appuntamento degli esercizi della sessione sul ritmo. Oggi ci occuperemo dell'alternanza fra la duina di ottavi e la quartina di sedicesimi. Molto interessante, ci piace tantissimo, adesso andremo a sentirla. Ma prima vi prego di non dimenticarvi di mettere un like, di condividere e di iscrivervi al mio canale per sostenere il mio progetto. Grazie! Allora, come si presenta questo esercizio? Duina di ottavi, quindi due note legate da un'unica lineetta e quartina da sedicesimi, quattro note legate da due lineette. Se noi volessimo smembrare queste figurazioni ritmiche, avremmo due note con la virgoletta in alto, scure, sta parlando sempre di note nere, e quattro note con le due virgolette in cima. Quindi, in realtà, questo tipo di lettura dissociata dalla figurazione ritmica crea una grandissima confusione nella lettura di uno spartito, quindi è molto più comodo leggere per figurazioni ritmiche, che non sono altro che l'assembramento di tante note secondo un criterio o binario o ternario. Quindi, noi in questo caso siamo nei tempi pari e ci troviamo con due o quattro, ok? La duina da ottavi ha una durata nel tempo che equivale a quella della quartina da sedicesimi, per cui evidentemente, cioè durano tutte e due un quarto l'una, evidentemente la quartina da sedicesimi sarà più veloce, giusto? Ok, quindi noi abbiamo, se vogliamo parlare di taca, per rendere le cose più semplici, una situazione di questo tipo. Ta-ca, ta-ca-ta-ca-ta-ca, ta-ca-ta-ca, ta-ca-ta-ca, ta-ca-ta-ca. Provate. Ta-ca, ta-ca-ta-ca, ta-ca, ta-ca-ta-ca, ta-ca-ta-ca, ta-ca-ta-ca. Bene, nel momento in cui lo invertiamo inizieremo con la figurazione ritmica più veloce, ossia TACA 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 Ok? Bene! Allora, in questo caso possiamo provare a utilizzare un fraseggio sketch, se vogliamo E potremo fare DABA DABA DUIBA DABA DABA DUIBA Proviamo? Voi! Bene, si potrebbe anche accelerare un po' il passo, no? Voi! Bene, adesso proviamo a fare il contrario Faremo Molto bene, bene Ok, possiamo anche modificare Che so io? Ci piace di più così? Con questo sh che ci dà anche un po' di ritmo in più Proviamo, poi Sul fraseggio sketch, se vi sembra un po' troppo veloce Io sto cercando dei fraseggi molto intuitivi Che siano abbastanza orecchiabili Però se volete potete fermare il video e provare lentamente quello che leggete Quindi questo è un E possiamo invertirlo Quindi proviamo prima a farlo Duina, ottavi, sedicesimi e dopo faremo sedicesimi e ottavi Ricordatevi sempre che gli ottavi rispetto ai sedicesimi sono sempre un pochino più lenti E invece più veloci sono i sedicesimi Questo è sempre relativo La velocità nella musica è relativa Ma parleremo di questo più avanti Quindi Più lento Più lento Più lento E' necessario tenersi un tempo in levare e non in battere Perché non c'entra niente Se no Con lo stile un po' più swing dello scheletto Bene Allora facciamo il contrario adesso Avremo Bene Proviamo ad aggiungere delle note Se ci piace questo fraseggio possiamo ottenerlo E a questo punto aggiungiamo qualche nota Potrebbe essere Voi Questi esercizi ritmici sono fantastici Anche nel momento in cui si volesse eseguire Un brano con altri cantanti Di improvvisazione Si prendono queste figurazioni ritmiche E le si adottano Cioè ognuno Ogni cantante Possibilmente in cerchio Sarebbe bello farlo Ognuno adotta una sua ritmica Ovviamente deve avere una coerenza Se siamo in tempi pari Rimaniamo tutti in tempi pari Poi per le cose sperimentali Se ne parla più avanti Spero che questo video vi sia piaciuto E che abbiate trovato divertente questo esercizio Naturalmente ne faremo ancora altri E vi introdurrò a nuove figurazioni ritmiche Io vi aspetto alla prossima E vi auguro buon canto a tutti Ciao 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 Grazie a tutti.